Coltivava piante di marijuana e deteneva munizioni e materiale esplosivo. Il 23enne Salvatore Canistra è stato arrestato dai carabinieri di Barcellona colto in flagranza di reato. Il giovane disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso mentre era intento a irrigare delle piante di marijuana alte circa un metro e trenta centimetri in avanzato stato di maturazione vegetativa. I militari dell'arma che da tempo hanno intensificato l'attività investigativa proprio per il contrasto al fenomeno della coltivazione dello spaccio di stupefacente nel territorio del Longano già da giorni erano sulle tracce del giovane e ieri pomeriggio hanno colto Canistra con le mani nel sacco. Il 23enne si era recato come suo solito in un terreno di contrada rocche in territorio di Barcellona per irrigare le quattro piante di cannabis indica. Certi di ciò che cercavano proprio in virtù delle indagini svolte i carabinieri hanno quindi eseguito una perquisizione su quel terreno in cui hanno trovato oltre alle piante occultate tra la vegetazione numerose cartucce per fucile da caccia e per pistola. Tra il materiale sequestrato anche un artificio di fabbricazione artigianale di grosse dimensioni con miccia lunga 65 centimetri circa, quattro scatole contenenti inneschi per cartucce e ordigni esplosivi nonché un grosso coltello a serramanico. Anche l'abitazione del giovane è stata posta sotto perquisizione nel corso della quale i carabinieri hanno trovato 35 grammi di marijuana essiccata. La droga, le piante e il materiale sequestrato sono stati inviati ai rischi di Messina per gli esami di laboratorio. Salvatore Cannistra dopo le formalità di rito in caserma su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Barcellona Rita Barbieri è stato rinchiuso presso il carcere di Gazzi.